Gloria, gloria, gloria a Dio. Dice nel Salmo 91, al verso 4, Egli ti coprirà, Dio l'Eterno ti coprirà con le sue penne e sotto, alleluia, le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, tu non temerai lo spavento notturno nella freccia che vola di giorno, gloria al Signore, nella peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa a mezzo di, mille cadranno al tuo fianco, diecimila, alla tua destra, ma a te, a te, non si accosterà, a te, Chiesa di Gesù Cristo, a te, fratello, servo di Dio, a te, sorella, figliuola dell'Altissimo, a te, gloria a Dio, che mi ascolti, che ami Cristo, che temi Dio, che vivi nel Signore, che vivi nella grazia, che vivi nella fede, a te, non si accosterà, amen, alleluia, perché tu confidi nell'Eterno, ma ti voglio dire, tu e io, alleluia, ci dobbiamo consagrare sempre di più, ci dobbiamo arrendere sempre di più, come diciamo sempre, ci dobbiamo mettere sempre di più in linea con la volontà di Dio, queste promesse valgono soltanto per coloro che camminano in linea con la volontà di Dio, per coloro che vivono in linea, in linea, in armonia con la volontà di Dio, amen, queste promesse sono valide soltanto per coloro che vivono in Dio, che camminano, alleluia, nello Spirito di Dio, che, alleluia, che giorno per giorno si consacrano, si arrendono a Dio. Queste promesse, cari sorelle, cari fratelli, non valgono per gli empi, per i ribelli, per i disubbidienti, per i carnali, per quelli che hanno un piede qua e un piede là, no, queste promesse valgono per quelli che camminano in linea, alleluia, in linea con la volontà di Dio, è la ma che remensoria che camminano nella retta via, che camminano nella fede, nell'ubbidienza, nella santità con Dio, amen, alleluia, chi dimora nel riparo dell'Altissimo. Fratelli, ottiene tutte queste benedizioni, queste promesse e, come dicevamo, nella vita di un vero cristiano non ci deve essere la paura. Fratelli, nella vita di un vero uomo di Dio, di una vera donna di Dio, non ci deve essere più spazio per la paura. La paura viene dal mondo, fratelli. Dove vivi tu? Vivi in Dio o vivi nel mondo? Alleluia! La paura viene dal mondo? La paura è uno spirito maligno che domina il mondo di peccato. Allora, dove vivi tu? Vivi in Dio o vivi nel mondo di peccato? Se tu vivi in Dio non c'è paura. Alleluia! In Dio c'è vittoria. In Gesù c'è potenza. Nello spirito santo c'è, alleluia, sicurezza. Dove vivi tu, fratello, sorella? Dove vivo io? Dove viviamo? Se viviamo in Cristo non c'è paura. Anzi, è il diavolo che deve avere paura di te, che sei pieno dello spirito di Cristo. Ma non è il cristiano che deve vivere nella paura. Paura di questo, paura dell'altro, paura delle malattie, paura del terrorismo, paura della guerra, paura dei terremi. Ma di che cosa hai paura se vivi in Cristo? Alleluia! Dice la Bibbia, per me il morire è guadagno. Neanche la morte ci deve spaventare, frate. Per me la morte è una porta di passaggio. Posso dire, per me la morte è un ascensore che mi porta in paradiso. Alleluia! Per me la morte è un ascensore che mi porterà al regno dei cieli. Alleluia! Sapete, le persone che hanno paura della morte, è perché non vivono in Dio. Vivono nel mondo, vivono nel peccato, vivono nelle tenebre. Vivono lontano da Gesù. Gesù è la vita, fratelli. E chi vive lontano da Gesù ha paura della morte, ha paura delle guerre, ha paura dei terremoti, ha paura delle malattie, ha paura di tutto. Ma chi vive in Cristo non ha paura di niente. Amen? Forse, fratelli, fatemelo dire, a volte il lato umano, la carne, vuole metterci delle paure. Succede a tutti, ma quando noi siamo ripieni dello spirito, alleluia, non c'è paura. È la morte che ha paura di te, è la malattia che ha paura di te, è il diavolo che ha paura di te, è Satana che ha paura di te, ha paura della Chiesa, perché la Chiesa è piena della potenza di Dio. Amen, alleluia! Oh, alleluia! Il vero credente non ha paura, tu non puoi avere paura del domani, paura del futuro, addirittura c'è gente che ha paura del passato, si ricordano delle cose brutte e hanno paura. Di che cosa hai paura, gloria a Dio? Cristo vive in te, vive in te il Signore oppure no? Alleluia! Chi è che vive in te? È lo Spirito Santo o è lo Spirito della paura? Fratelli, qui dice la mia Bibbia, amen, la tua Bibbia, alleluia, dice tu non temerai lo spavento notturno, amen, tu non temerai lo spavento notturno. Salmo 91, verso 5, tu non temerai lo spavento notturno, amen, sai perché? Perché Cristo è la luce, amen, tu non puoi temere le tenebre, tu non puoi avere paura dell'oscurità, tu non puoi avere paura del futuro, del domani, paura della crisi, paura della disoccupazione. C'è gente che ha paura della disoccupazione, no fratelli, l'Eterno è il mio pastore, amen, nulla mi mancherà, alleluia, credilo. Alleluia, 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 noi non temeremo, fratelli. Fratelli, noi non temeremo, anche se la terra fosse sconvolta, anche se venisse un terremoto, un cataclisma, noi non temeremo. Come dicevo, la morte per i veri cristiani non deve più fare paura, fratelli, lo so che a volte la carne ha paura, fratelli, è vero, la carne. Ma noi non viviamo più nella carne, viviamo nello spirito, noi dobbiamo vivere nello spirito, amen. Per i veri cristiani la morte è un ascensore che ci porta nella gloria di Dio, nel regno di lassù. Ma purtroppo per alcuni la morte è un ascensore che porta diritto all'inferno, è un burrone che porta all'inferno, è un precipizio che porta all'inferno. Fratelli, ma per noi, alleluia, non ci deve essere più paura, non avere paura, sorella, fratello, non avere paura di niente. L'Onnipotente vive in te, gloria a Dio. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo, dove stai dimorando, fratello, sorella, uomo, donna che ascolti, dove stai vivendo, dove abiti, quale spirito c'è dentro di te? Gloria a Dio, gloria a Dio, la paura non è da Dio, la paura è dal diavolo, la paura è dal mondo, dalle tenebre, dalla carne. La paura, fratelli e sorelle, è un frutto del peccato. Vi ricordate, vogliamo leggere questo brano? In Genesi, apriamo la scrittura, Genesi, gloria al Signore, alleluia, benedetto. Genesi, capitolo 3, amen. Ci parla di quando l'uomo, di quando Adamo ed Eva caddero nel peccato. E allora i occhi si aprirono e loro videro di essere nudi, loro videro la loro nudità intesa come miseria, loro videro la loro miseria spirituale, la loro condizione di decadenza nella quale erano caduti, loro videro la loro mancanza, la loro iniquità, la loro nudità. E allora, dice la scrittura, che l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio. Vedete, fratelli, cosa accade quando c'è il peccato? L'uomo e la donna si nascosero dalla presenza di Dio, si allontanarono dalla presenza di Dio. E dice che loro si nascosero fra gli alberi del giardino. Cioè il loro peccato, la loro carnalità, la loro disubbidienza, li portò lontano dalla presenza di Dio, a nascondersi in mezzo agli alberi. E dice che allora l'Eterno Dio, Genesi 3, verso 9, l'Eterno Dio chiamò, il Signore chiamò l'uomo e gli disse dove sei? Dove sei? Amen? Ed è la stessa domanda che Dio rivolge a noi questa sera. Dove sei? Dove vivi? Dove abiti? Sei nella luce o sei nelle tenebre? Sei nello spirito o sei nella carne? Dove sei? Dio disse ad Adamo e a Eva che si erano nascosti, si erano allontanati dalla presenza di Dio. E allora Adamo rispose, Alleluia, gloria a Dio, rispose, ho udito la tua voce, nel giardino ho udito la tua voce e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Vedete, Adamo, quando udì la voce di Dio, ebbe paura. Fratelli, in questo momento nacque la paura nel cuore degli esseri. prima del peccato non c'era la paura. Fratelli, quando noi viviamo in Dio non c'è paura? Quando noi viviamo nella luce non c'è paura? Quando noi viviamo nello spirito di Dio non c'è paura? La paura è un frutto del peccato, dell'allontanamento da Dio, della ribellione. Adamo, quando peccato, si allontanò dalla presenza di Dio e iniziò a avere paura, uno spirito di paura. Solo arrivò dentro di lui uno spirito di paura. Iniziò a dominare la vita degli uomini. Ma ti voglio dire, quando noi dimoriamo in Dio, quando noi siamo nuove creature in Cristo, quando lo spirito di Dio riempie i nostri cuori, non c'è più paura, fratelli. Qui Salmo 91, verso 5, dice tu non temerai lo spavento notturno nella freccia che vola di giorno, fratelli, non c'è più paura quando noi viviamo nel Signore, quando noi viviamo nella luce di Dio, quando noi viviamo nello spirito di Dio, non c'è più paura, ma anzi, sono le tenebre che hanno paura della Chiesa, di Cristo. Sono i demoni che hanno paura, ma il credente non ha più paura, il vero credente non deve più vivere nella paura, sore, fratello non temere, sorella non temere, l'Onnipotente è con te, alleluia, perché temere, amèn, la paura è un frutto del peccato, ma se tu e io viviamo in comunione con il Re di Gloria, non c'è più paura, perché il perfetto amore caccia via la paura, amèn, il perfetto amore allontana ogni paura, amèn, e per i figli di Dio non ci nessuna paura, non ci deve essere più nessuna paura, alleluia, nel glorioso nome di Cristo, oh, alleluia, nei veri figliuoli di Dio non c'è più paura, la paura, fratelli, si trova nei figli del mondo, nei figli del peccato, nei figli della disubbidienza, nei figli di Satana, c'è la paura, perché il diavolo li opprime, il peccato li opprime, la separazione da Dio li opprime, ma nei veri figliuoli di Dio non c'è più paura, c'è pace, c'è serenità, c'è sicurezza, c'è fiducia, c'è gioia, c'è potenza, c'è vittoria, alleluia, anche al di là della morte, noi abbiamo la vittoria, fratelli, la morte, uno spavento, la morte non è più una paura per i cristiani, nemmeno la morte può darti, può farti paura, perché Cristo, la vita, la risurrezione, la risurrezione, la vita, Cristo vive in noi, gloria a Dio, nemmeno la morte deve più spaventare i figli di Dio, perché la risurrezione, la vita, Cristo vive in noi, amen, cari fratelli, perciò andiamo avanti fiduciosamente nelle vie dell'eterno, nelle vie della verità, nelle vie dello spirito, alleluia, dice qui nel Salmo 91, tu non temerai, tu non temerai lo spavento notturno, nella freccia che vola di giorno, ossia che non c'è più nessun tipo di paura per i cristiani, noi abbiamo, abbiamo la pace di Cristo, la mente di Cristo, abbiamo le promesse di Cristo, abbiamo la protezione di Cristo, qui dice fratelli questa meravigliosa parola che abbiamo appena letto, Salmo 91, verso 3, dice, Egli ti coprirà con le sue penne, amen, il Signore, fratelli, ha messo su di noi una copertura spirituale, una copertura della sua presenza, una copertura che significa una protezione, un rifugio della potenza, dello Spirito di Dio, una copertura, perciò non temere, amen, se tu appartieni a Cristo, non temere, ma rimani nella presenza di Dio, rimani fiducioso, rimani costante, rimani in comunione con lo Spirito di Dio, perché non c'è più nessuna paura per i figli di Dio, ma c'è solo vittoria, solo pace, solo sicurezza in Cristo, amen, Dio vi benedica, cari fratelli, vi saluto nella pace del Signore.